ooooh nooo fai tu attenzione attenzione no? si e poi devi buttare dentro si buttalo dentro allora si? si ci sei quasi ooooh con un'altra tecnica si io la sento così però però e adesso è un fondo è una conchiglia è abbastanza tanto uuuuuh no 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 così puoi fare dall'aria tirarsi dentro oh tipo di scena l'operatore che cazzo non so se possa apare in questa ma in realtà vediamo perché scusate oooh l'operatore che sta No, 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 è giusto! Che cazzo!